Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore, Lauren e MoveU. Ebbene sì, questa è Televari Social Night e lei è Silvia Dipinto. Tu sei Andrea, ma ti conoscono tutti, quindi non ho bisogno di presentarti. Insomma, stando ai post Facebook dei tuoi prossimi ospiti, sembra che il programma sia solamente ed esclusivamente il tuo. È la mia bolla. Buonasera e ben trovati a tutti. Oggi è una puntata ricca, come sempre. Avremo in studio Antonella Del Fino Pesce, Orgoglio Barese, la criminologa che ha fatto riaprire il caso di Nata Cella. Parleremo con lei del caso, ma anche e soprattutto di quello che c'è dietro, del suo percorso. Quindi se vi interessa il tema e magari, chissà, volete fare da grandi criminologi, restate in ascolto. Prima, subito, rassegna stampa con un ospite che corteggiamo sempre, perché è sempre originale nelle sue analisi. E poi ancora la musica. Terzo spazio facciamo un percorso, non benessere ai noi, ma tra musica e psicologia, con un esponente d'eccezione. Allora, cominciamo subito, perché oggi è tanta stata la cronaca a Bari e in provincia, ne ha parlato diffusamente il telegiornale. Ma noi guardiamo, per fortuna, un episodio a lieto fine che abbiamo raccontato nei nostri spazi informativi. Guardiamo. 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 Grazie a tutti. Ha avuto subito dell'incendio e quindi ha evitato quella che poteva diventare veramente una tragedia. Siamo in compagnia di Michele De Feudis, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, penna raffinata, un intellettuale possiamo dirlo senza timore di smentita. Grazie mille per essere venuto. Grazie a voi. Allora guardiamo subito perché abbiamo tante cose di cui parlare. Un pezzo molto bello oggi pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno a firma di Nichi Vendola, il signore in rosso. I cento anni di Enrico Berlinguer e c'è un'analisi di Nichi Vendola, sempre interessante da leggere, anche lui insomma poeta, fine scrittore. Ecco, è un modo anche per ricordarci quello che ci manca. Possiamo dire che Nichi Vendola ricorda sulla Gazzetta del Mezzogiorno un gigante, un gigante della politica italiana come Enrico Berlinguer che nonostante avesse un fisico minuto però riusciva a rappresentare le aspirazioni di una comunità che aveva un grande anelito di cambiamento. E non ci dimentichiamo anche che lui aveva una visione nazionale del comunismo, che era ed è un'ideologia internazionale, però lui riuscì ad affermarla con grande autonomia, autonomia che richiedeva coraggio, nel caso di Enrico Berlinguer era l'autonomia da Mosca. E addirittura in quel periodo è il grande segno della sua segreteria, lui portò il Partito Comunista su posizione occidentalista e addirittura anche a condividere l'adesione dell'Italia e il posizionamento dell'Italia con l'Occidente e con la Nato. Abbiamo scelto insieme un altro pezzo da guardare, non per fare nostalgici ma per ricordarci anche quello che siamo stati e quello che è stata la città di Bari in una fase di grande cambiamento. Ecco qui, questo è un pezzo invece a firma tua, Don Araldo di Crollalanza, 130 anni senza il costruttore della Bari Migliore, che è il titolo. Dicevo prima, non per fare nostalgici ma un po' per ricordarci che c'è stata una Bari che cambiava a una certa velocità. Allora, senza dubbio, io sostanzialmente ricordando la figura di Crollalanza provo a riabilitare quella che è un po' anche nelle cronache giornalistiche troppo spesso ridotta a una cronaca minuscola, cioè l'urbanistica. L'urbanistica è una scienza, se vogliamo, un settore anche della politica che consente di dare dignità e qualità della vita agli esseri umani che sono assoluti cittadini. Perché ci ricordiamo di Crollalanza? Perché lui è stato un politico della pietra. Cioè lui bonificava le paludi, costruiva nuove città, costruiva per esempio a Bari le case popolari di fronte al mare, ha portato a Bari la fiera del Levante, che erano delle grandi visioni. Quindi era una politica che costruiva sulla pietra, la politica che lasciava dei segni. E credo che possa essere anche un monitor al di là della destra e della sinistra, fermo restando che Crollalanza, per quanto fosse minuto e per quanto tutti lo ricordiamo in questa sua foto iconica, mentre passeggia con un bambino sul lungomare di Bari, non dimentichiamo che lui era eletto nel Movimento Sociale, che era un partito assolutamente minoritario, però Bari veniva votato quasi da un barise su due, al di là degli steccati. Qual è il grande lascito? La politica delle realizzazioni, delle cose concrete. Bari, la Bari moderna, deve molto ad Araldo Crollalanza e a questa sua sensibilità legata alla politica. Poi un ultimissimo racconto che riguarda il nostro mestiere. Araldo Crollalanza era un giornalista, era un giornalista, diciamo anche Garibaldino, Mazziniano, fu giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, e come colpì Mussolini, perché lui era un sottosegretario dei lavori pubblici e aveva questa sua finestrella con la luce sempre accesa di notte. Quindi Mussolini lo vedeva di notte a mezzanotte che stava lì, lo andò a trovare, gli disse, ma Crollalanza, lei che fa sempre in questo ufficio, nelle ore piccole? E lui gli disse, eccellenza, io nasco giornalista e quindi sono abituato a lavorare di notte. E da lì nacque quindi una grande estima e addirittura lui divenne ministro dei lavori pubblici, riuscendo con uno schema che secondo me è applicabile anche ai giorni nostri, a piegare la tendenza al profitto del capitale, per esempio legato all'edilizia, costringendo i costruttori, sì, magari a realizzare dei palazzi, ma poi come lo può vedere chiunque attraversi la città di Bari, anche a donare delle fontane ai cittadini, perché quelle fontane sono fontane di libertà, di gioia, di allegria, e sono anche un modo per capire che non c'è solo la speculazione, ma c'è anche il diritto alla bellezza, che era uno dei cardini della politica di Crollalanza. Adesso viene veramente facile, e devo dire anche un po' ruffiano, ma di questo me ne assumo le responsabilità, l'accostamento invece con un altro pezzo, che invece riguarda i nostri giorni, la porno politica, di cui tu parli spesso, perché puntualmente non c'è elezione che si rispetti se non scoppia uno scandalo di pornostar candidata. In questo caso, nell'occhio del ciclone, è finita una candidata di Calenda, che si è scoperto essere una mistress, e immediatamente candidatura, ritirata, in realtà anche un po' incomprensibilmente, perché voglio dire, ormai abbiamo sdoganato tutto, non vedo perché poi uno non possa fare sto mestiere. Non è, ecco, dicevo l'accostamento un po' ruffiano, perché non voglio dire che la politica di un tempo era lodevole, oggi c'è diciamo il degrado, non è questo che vogliamo dire. Però un po' qualche riflessione la si fa. Sì, senza dubbio, forse, diciamo, c'è stato un rigurgito di bacchettonismo, me la fai dire così. Magari l'Italia, della prima repubblica, addirittura aveva il partito dell'amore, che non era quello di Berlusconi, ma era quello di Moana Pozzi e di Cicciolina. Cioè c'erano delle sensibilità, e forse anche un'attenzione al pluralismo, forse anche un'apertura. E ora, se immagini invece, in un mondo nel quale, sostanzialmente, soprattutto grazie, diciamo, all'economia digitale, uno sembra che possa acquistare qualunque cosa, e vedere qualunque cosa, in politica non può vedere, diciamo, le lavoratrici del porno. Questo è un po' un peccato. E non fosse altro, noi qui abbiamo avuto, diciamo, dei pezzi di storia della pornopolitica, cioè Rossana Doll, che, insomma, anche lì un po' c'è un racconto boccaccesco, voleva diventare hostess, qualche politico, allora provò a darle una spintarella, chiamiamola così, e finì tutto in questo libro cult, scritto dal mio collega Alberto Selvaggi, membri di partito, quindi immaginate, insomma, l'oggetto di queste performance, così come anche la stessa, ora, grande porno stare italiana, Malena, lei sostanzialmente nasce addirittura nel PD, aveva un dirigente di Gioia del Colle del PD, che si chiamava Lenin, che la avviò, lei andò anche nell'Assemblea Nazionale del Paese Democratico, prima di scegliere, poi invece, Budapest e Rocco Siffredi, e quindi un altro tipo di impegno. Carriera. Di un altro tipo di carriera d'impegno, quindi, insomma, ci sono questi elementi che si incrociano, e io credo che però ci voglia anche un po' di sano libertarismo, quindi ognuno, diciamo, al di là della professione, non importa, insomma, la professione che fa, ma importa il contributo che vuol dare al bene comune, no? Anche perché la pornografia in politica, che scandalizza, dovrebbe essere tutt'altra, onestamente. Ma questo, diciamo, in una rassegna stampa un po' anticonformista, lo possiamo serenamente dire. Adesso invece ti faccio vedere un nostro pezzo dal sito telebari.it, perché arrivano le amministrative, si vota il 12 giugno e naturalmente si scatena l'ironia dei social, questo a gravina, dove si vota, se i candidati fossero attori di Gomorra, quindi hanno fatto questa pagina, si chiama Gramorra, c'è una crassi tra Gravina e Gomorra e mettono a paragone i candidati veri con gli attori di Gomorra. Un pezzo, insomma, che ha suscitato grande realità. Oggi trovate un altro pezzo che riguarda invece il fantasindaco, perché ci sono, come il fantasarremo, il fantasalcio, il fantasalezioni, quindi si vincono addirittura peluscio, si vota in moneta, si vincono monete virtuali, molto divertente. Vabbè, la creatività si sbizzarrisce, grazie al cielo poi molti santini ispirano. Ma senza dubbio, anche perché poi lo slogan, se vogliamo, è sintesi. Noi baresi, diciamo, ricordiamo soprattutto quelli di un ex consigliere comunale di centrodestra, Pasquale Finocchio, che aveva lo slogan Vota uno come te, che faceva un po' sorridere. La verità è che c'è in quei santini un misto, secondo me, di vanità, perché un po' uno mette la propria foto, quindi si sente quasi un fotomodello, una fotomodella, con anche questa idea, diciamo, di presentarsi. Poi, se ci pensi, bisogna vincere tante ritrosie per poter dare un santino o un invito al voto. E quindi a me sembra che, al di là del, diciamo, di quello che possiamo chiamarlo così, cazzeggio, come ci sia anche, invece, un approccio importante di tante persone che magari non vengono dalla politica, però decidono per queste giornate di campagna di dedicarsi allo spazio comune. No, non è bello, insomma, poter sottrarre tempo al nostro individualismo, alle nostre cose, per immaginare, invece, una cosa di tutti, come la politica. E poi c'è un'ironia inconsapevole di tanti candidati. Andiamo, invece, a commentare un altro paio di pezzi. Li guardiamo, perché ci hanno fatto riflettere anche questi. Dialogo Canfora-Borgonovo, ecco la guerra vista dagli eretici, il nuovo libro di Canfora. Adesso, insomma, ne parleremo. E poi, ancora, un altro pezzo che hai scritto tu, che, invece, riguarda il battaglione Azov, sempre dalle pagine della Gazzetta, è un commento da leggere, assolutamente. Il miracolo impossibile della musica, tingere di arcobaleno il battaglione Azov. E questo è un commento dopo l'Eurovision. Michele, faccio guardare questi due pezzi, diciamo, di Canfora. Abbiamo discusso tanto anche in questo spazio. È stato da sempre considerato un simbolo per una certa sinistra, che ora quasi si trova un po' spiazzata. Sono saltati un po' di canoni e di pilastri considerati fino ad ora saldi in questo momento. C'è la guerra, la pandemia e poi la guerra. Hanno messo in discussione un po' di capi saldi che pensavamo saldi? Senza dubbio, diciamo, si mescolano le categorie. Probabilmente ci sono delle nuove dicotomie, cioè chi è pro-guerra, chi magari è per la pace. Ci sono anche tante sfumature. Per esempio, a me colpisce molto in questo momento che si va ecclissando, per esempio, la prudenza diplomatica di Papa Francesco, che invece ogni domenica riflette globalmente sul tema della pace, tutta la pace del cuore in Europa. Però ci sono alcuni elementi che devono fare riflettere. Cioè, nonostante ci sia, diciamo, ci sono degli schieramenti, poi noi italiani siamo bravi a dividerci tra Guelfi e Ghibellini, no? Il manicheismo. Ci sono però delle oasi di riflessione. Quindi credo che anche questo libro è assolutamente insolito. Una casa editrice di destra che pubblica un dialogo tra un collega, Francesco Borgonovo, assolutamente relazionario, e uno storico di elevatura europea come Luciano Canforo, comunista, che cosa fa a capire? Che probabilmente, diciamo, per conoscere le loro ragioni bisogna avvicinarsi senza pregiudizi. Poi magari, dopo aver letto il saggio, lo si può giudicare. Così come anche nell'epopea, diciamo, di questi soldati, diciamo, estremisti, del battaglione Azzo, io ci vedo anche un approccio un po' acritico, perché ovviamente, diciamo, noi conosciamo poco delle loro gesta dal 2014 in poi e prima, diciamo, addirittura di paragonare la loro resistenza nell'accelleria alle termopili, forse dovremmo andare un po' più a fondo e anche riflettere su come ci sono tante maniere di declinare un patriottismo. Il patriottismo armato, secondo me, è un patriottismo molto... Il nazionalismo armato è un nazionalismo molto rischioso e probabilmente la nostra riflessione di cittadini, i cittadini che si vedono la guerra in televisione come se fosse un videogames sparatutto, però una guerra che poi arriva nel nostro carrello della spesa, perché la pasta costa di più, la bolletta elettrica costa di più, quindi noi a un certo punto possiamo anche formarci liberamente un'opinione sulla guerra attraverso tutti questi canali eterodossi. E assolutamente l'invito, diciamo, in questo spazio, quello che proviamo a fare è sempre riflettere, approfondire, non seguire mai le mode, studiare, leggere e poi farsi un'opinione, qualunque questa sia, sempre nel rispetto degli altri. Grazie mille a Michele De Feudis, buon lavoro, ne avete tanto, sempre con la Gazzetta del Mezzogiorno in edicola, con questi contributi di riflessione, grazie mille. Grazie, grazie a voi. E voi invece restate con noi perché tra pochissimo abbiamo la criminologa Antonella del Fino Pesce. A tra poco. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti.